Salve amici e amiche, oggi apriamo con la fantascienza per parlare di Europa. Ve lo ricordate questo film? Lei è la mitica Ellen Mirren. Tutti questi mondi sono vostri, tranne Europa. Non cercate di atterrare lì. Ora, questo è il film 2010, l'anno del contatto, tratto dalla saga di fantascienza di Odissea dello Spazio di Clark, da cui appunto poi nacque la collaborazione con Stanley Kubrick per il film 2001. Perché ho usato questo argomento? Beh, per parlare di Europa naturalmente, dato che ci sono importanti novità per quanto riguarda la Moldavia, la Georgia, e quello che sta succedendo anche collegato all'Ucraina. Ma, come devo dire, per l'Europa, sognando l'Europa, oggi se ne parla anche in termini astronomici, dato che il 16 ottobre è partita la missione Europa Clipper, che è una missione storica fondamentale per la ricerca della vita. Infatti, questa missione ha lo scopo di raggiungere il satellite, il terzo satellite di Giove, per poterne studiare la composizione, dato che la teoria attuale, sulla base delle osservazioni attuali, è che sotto lo strato di ghiaccio, molto riflettente, che abbiamo osservato, sia con le sonde Voyager, che poi dopo, con le osservazioni più recenti, sotto questo strato ghiacciato di diversi chilometri, ci sia un oceano profondo, oltre 100 chilometri. E questo, insomma, è un indice interessante, soprattutto se consideriamo che questa massa d'acqua è superiore anche a quella presente sul nostro pianeta, se parliamo di quantità. Il sospetto è che possano esserci dei microorganismi dovuti al fatto che questa Luna, orbitando attorno a Giove, viene stiracchiata dalla sua gravità. Quando si avvicina al gigante gassoso e poi si allontana, riceve delle forze un po' simili a quelle mareali che abbiamo noi, grazie alla Luna. Quindi queste forze gravitazionali la comprimono e rilasciano il nucleo, e questo genera vulcanesimo, quindi calore. Se ci sono vulcani sul fondo di questo enorme oceano, generano calore. Il calore poi, insieme alla diluizione di minerali in un ambiente acquatico, sappiamo, almeno per quello che si sospetta sia accaduto anche sul nostro pianeta, dato che all'inizio non c'era ossigeno, possa aver generato microorganismi. Ora, questa sonda è equipaggiata con tanti strumenti, nove, che serviranno proprio per sondare la superficie della Luna. Non potrà atterrarvi, perché il campo gravitazionale e di radiazioni attorno a Giove è terrificante, quindi potrà fare solo dei passaggi attorno a questa Luna, e però con gli strumenti potrà sentire, se ci sono, per esempio, nelle sue vicinanze, il rilascio di molecole organiche, per esempio, indizi che possano dare delle conferme sulla presenza della vita. È chiaro che una scoperta del genere sarebbe fondamentale, perché se riusciamo a dimostrare che solo nel nostro sistema solare la vita si è generata, ha avuto una seconda genesi, genesi in senso scientifico, non biblico, chiaramente, lo devo precisare, però se è solo nel nostro sistema solare è venuta due volte la nascita della vita, questo può darci un'idea sulle probabilità che potrebbe esserci anche altrove, quindi se è così, noi non siamo un caso speciale, l'intera galassia potrebbe essere popolata da forme di vita ovunque. Quindi, chiusa la parentesi superquark e astronomia, passiamo avanti e parliamo della Moldavia. Come avete sentito, c'è stato votazioni estremamente favorevoli verso l'ingresso dell'Europa, della Moldavia. E questa è una grande notizia, soprattutto perché è l'ulteriore conferma che una guerra di invasione che voleva in qualche modo spaventare le nazioni confinanti con la Russia e in qualche modo intimidirle per evitare che entrasse in Europa, ha avuto esattamente l'effetto contrario. Quindi questa è l'ennesima nazione che vuole far parte del gruppo. Riflessione mia personale, ammiro il sogno di queste popolazioni di entrare in Europa perché in qualche modo ci vedono come un'isola di pace e democratica dove possono vivere dei valori civili e non la corruzione e le dittature. Prendete quello che sto dicendo per quello che è, però per noi non lo percepiamo, però bisogna capire che il progetto europeo nasce dalle ceneri di due guerre mondiali, da secoli di conflitti fra queste nazioni e quindi è un progetto di pace. L'Europa è un progetto di pace e quindi sono contento. Fra l'altro sono stati già denunciati brogli elettorali, tentativi di infiltrazione e ingerenze da parte russa, qualcosa come 300.000 voti sono stati contestati, sono stati rilevati faldoni, vediamo se li becco qui, cioè questi sono tutti faldoni beccati di tessere elettorali e contraffazioni varie e fa ridere che dalla Russia arrivano news di questo tipo in cui per esempio prima, dove sta? Prima delle elezioni parlavano della Moldavia come un esempio cristallino di votazioni e poi il giorno dopo hanno iniziato a parlare di corruzione e elezioni fasulle. Fa un po' ridere detto dalla Russia visto che insomma questo era quello che succedeva per farvi vedere, questo era quello che succedeva durante le presidenziali di Putin. Telecamera che arriva dalla Russia, circuito di sorveglianza. Faccio notare l'ingresso di questa figura. Il tizio qui all'angolo è l'ufficiale, il piantone che dovrebbe sorvegliare il corretto svolgimento delle elezioni. Guardate che succede, l'ha notata, l'ha vista. E se ne va. Eh, le due signore iniziano a infilare i faldoni. Ora, questo è un video che dimostra quanto è veramente amato Putin in Russia, no? Cioè se era così amato che bisogno c'era di fare tutto questo. Adesso la signora sta facendo questa cosa per mescolarle, per non far vedere che sono contraffatte. Va bene. Ora, le notizie dalla Moldavia hanno tra l'altro generato anche una importante manifestazione in Georgia, a Tbilisi, che vediamo in queste immagini. Le direte, ok, sono poche persone. No, non direi proprio. La manifestazione è andata avanti per ore. Queste sono alcune immagini che arrivano dai droni. Ci danno l'idea di quanta gente a Tbilisi ieri. Anche loro sogna. Guardate quante bandiere europee, Manu. Cioè... È fantastico. È terribile come ci siano persone, anche da noi, che remano contro l'Europa, sulla scia di populismo e non so cos'altro. Alla fine lo fanno solo per prendersi la poltrona, è ovvio. Però allo stesso tempo in altri paesi sognano di entrarvi. Quindi penso che questo faccia riflettere, faccia riflettere molto. Bene, andiamo avanti. Allora, fra ieri e oggi, questa notte, che non riuscivo a dormire, ho dato un'occhiata un po' in giro anche su altri canali di analisi militare, di quello che sta succedendo. E le notizie che riguardano i soldati nordcoreani sono state confermate, tra l'altro adesso arrivano più nel dettaglio. Oggi Zeneschi ha parlato del fatto che questa partecipazione di soldati nordcoreani in Ucraina è un fatto senza precedenti che smonta completamente qualsiasi paura di escalation che ha frenato la Nato in questi mesi. Cioè, se l'Europa e gli Stati Uniti avevano paura di provocare il Cremlino, evidentemente non ha funzionato perché Putin ha addirittura schierato in campo dei soldati nordcoreani. Ora, il problema è grave per diversi motivi, piuttosto ovvi, fra l'altro. Il primo è che evidentemente Putin e i suoi falchi non si rendono conto che con questa semplicissima azione, del tutto insignificante strategicamente, perché cosa vuoi che facciano 10.000 soldati, 15.000 soldati in più quando ne perdi 1.300, 1.400 al giorno. Da un punto di vista strategico è rilevante. La reazione che questa cosa può causare negli Stati Uniti e in Europa però potrebbe essere molto controproducente. Cioè, voglio dire, non aspettiamo altro che un pretesto per schierare più forze in campo in Ucraina. E Putin non manca mai di darcelo con i crimini di guerra, con le sue azioni, le sue parole. E oggi ci dà questo ennesimo pretesto per supportare l'Ucraina arruolando direttamente soldati nordcoreani. Ora, la conferma arriva perché, fra l'altro, come vi dicevo, questi soldati che si vedono in questo video parlano nordcoreano. Dicono grazie tutte le volte che prendono l'equipaggiamento. Lo dicono in coreano. Fra l'altro qui, vi faccio vedere, abbassa un po' l'audio. Qui, vedete, c'è questo tizio qui, molto più alto di loro. Quello è un russo e notoriamente i coreani sono bassini, come è statura. La reazione degli Stati Uniti è già arrivata. Quindi c'è il capo del Pentagono, Austin, che è arrivato a Kiev stamattina. Cioè, c'è stato questo incontro. Quindi, sì, tra l'altro riprendo anche il discorso che ha fatto Putin al BRICS. Cioè, ormai c'ha gli amichetti che sono giusto quelli, che gli sono rimasti. In questo discorso semplicemente ha detto che la Nato deve smettere di combattere contro la Russia e che loro vinceranno. Alla fine vinceremo noi, dice. Ora, uno direbbe, ok, sono i soliti i suoi discorsi, ma quanti aerei la Nato ha perso contro la Russia nella guerra in Ucraina? Quante navi Nato sono affondate nella guerra contro la Russia, secondo Putin? Quanti soldati Nato sono caduti nella guerra della Russia contro l'Ucraina? Cioè, forse non ha capito che la Nato non c'è in Ucraina. E quindi può dire tutto quello che vuole, ma la realtà dei fatti sul campo è un'altra. Ora, per quanto riguarda, per chiudere il discorso dei soldati nordcoreani, è chiaro che è una situazione complicata, però allo stesso tempo noi stiamo parlando di gente che è cresciuta sotto un regime che a confronto 1984 di George Orwell è un paradiso. Cioè, stiamo parlando di uno degli stati peggiori del mondo, delle dittature peggiori del mondo, dove la gente... Cioè, io non faccio fatica a trovare le parole per dirvi quello che ho visto in vari documentari. Cioè, no, fanno questi riti contro padre e figlio, per padre e figlio, cioè, no, muoviono di fame. La situazione è questa. Questi soldati sono cresciuti così, non hanno mai visto il mondo fuori. Fra l'altro no. Non voglio neanche cercare di descrivervi la situazione delle donne in Corea del Nord. Perché veramente, qualsiasi cosa dica, non... Ecco, vi passo questo link, se volete dargli un'occhiata. Basta attivare il traduttore di YouTube. È la storia di un ragazzo, ve l'avevo già segnalato, ma... Ecco, ve lo consiglio. È la storia di un ragazzo che è scappato dalla Corea del Nord e ha trovato poi famiglia negli Stati Uniti. È una storia drammatica che vale la pena di sentire. Però questi soldati, in poche parole, usciranno adesso dalla Corea del Nord, hanno avuto il permesso per uscire, e per loro è un viaggio di sola andata, in tutti i casi, in tutte le situazioni, perché finiranno come gli altri che ci sono stati inviati prima di loro, e uscendo dalla Corea del Nord presto si renderanno conto che esiste un mondo oltre la Corea del Nord e che la narrazione che gli è stata fatta fin da quando erano bambini è completamente surreale. Cioè, gli basterà, non lo so, vedere televisione, anche quella russa sarà tipo sconvolgente per loro. E quindi, se non diserteranno, la fine sarà quella. Non è che farà la differenza. Ora, andiamo avanti. Questa è una testimonianza di soldati russi che dicono questo gruppo di soldati si è arroccato e si trova praticamente in mezzo fra le forze ucraine e quelle russe. Quello che dicono è che praticamente hanno ricevuto degli ordini folli e non stiamo parlando di soldati classici prigionieri che abbiamo visto in altri video, i disperati che vengono mandati a sud-est. Questi sono stati schierati, le truppe migliori, dicono, sono state schierate nella regione del Kursk. e non gente qualunque, comunque gente che ha un po' di addestramento. Queste sono, dicono, di essere della compagnia d'assalto del diciannovesimo reggimento della venticinquesima armata. Hanno ricevuto ordini dal proprio comandante di fare un attacco letteralmente di sola andata e denunciano la condizione da ubriaco del loro comandante che questo soldato che si fa portavoce dice ho visto cose troppo tristi che non posso neanche descrivere e quindi si rivolgono, fanno un appello agli altri per prendere quelle parole testuali dice chiedo di indagare la mia speranza è che il controspionaggio e le strutture di alto livello siano in grado di gestire questi comandanti insomma è una forma di ammutinamento in loro e dicono ora siamo in mezzo fra il fuoco ucraino e il fuoco dei nostri stessi soldati che cercano di zittirci questo è solo uno dei tanti casi ne abbiamo già portati altri questi sono due soldati africani che sono stati fatti prigionieri dicono noi siamo abbiamo firmato un contratto per lavorare in Russia come guardia di sicurezza non ci hanno mica detto che saremmo andati in Ucraina e lì poi sono stati catturati fa ridere che uno di questi indossa la maglietta di Rick e Morty ma appunto se conoscete la serie io ce li vedo proprio come due alieni che non sanno come perché si trovano lì letteralmente allora una notizia di quelle belle quando si dice il karma no cioè quando fai delle cose che poi ti tornano indietro Dimitri Golhenkov pilota del 52esimo gruppo bombardieri e generale di stato maggiore uno dei responsabili delle tante azioni contro i civili ucraini che hanno portato solo in queste due azioni citate stiamo parlando di qualcosa come 70 civili ucraini fra cui diversi bambini insomma lui era un pilota dei grossi Tupolev 22 quelli che sganciano i missi da crociera e le bombe sull'Ucraina e insomma questo pilota ha incontrato un martello stanotte ce ne sono altri cinque quindi sì questi sono i servizi segreti ucraini che lavorano all'interno della Russia o chi per loro insomma è curioso che abbia incontrato un martello non posso mostrarvi le immagini ma ci sono anche i video così come è curioso che per esempio un grosso petroliere Mikhail Rogachev in circostanze come si dice è accidentalmente trapassato dopo essere caduto da una finestra gli scivoloni si sa possono succedere e che le finestre in Russia sono fatte male fondamentalmente perché capita spesso che personaggi di alto livello inciampino accidentalmente poi poi si sa quando scivoli dalle finestre può succedere insomma che vai incontro a un un trapasso accidentale tra l'altro bene organizzato perché a casa hanno trovato anche una lettera che diceva che guardate nella lettera c'era scritto guardate cara famiglia che sto per scivolare accidentalmente dalla finestra già poi vi passo altri video e testimonianze che non posso neanche mostrarvi giusto questa ve la accenno giusto giusto vi mostra che mostra un'azione ucraina nella regione di Kursk ci sono poi altri video che vi passo in descrizione che testimoniano il lancio di agenti chimici non autorizzati da parte della Russia e poi anche un altro video 3-4 video che vi metto in descrizione non posso neanche farvi vedere dei fotogrammi perché youtube non me lo permette però c'è stata un'azione interessante quasi cinematografica da parte della 36esima brigata di marine ucraina che nella regione di Kursk c'erano nove soldati sembra veramente la sceneggiatura il soggetto di un film nove soldati di marine erano entrati in un edificio per salvare dei feriti quando si sono visti completamente circondati dalle forze russe a quel punto si sono dati finiti non volevano arrendersi via radio questo succede nel video si vede si sente via radio hanno detto sentite ormai per noi non c'è più niente da fare tirateci addosso tutto quello che avete letteralmente e l'aria viene colpita ripetutamente da tutti i tipi di munizioni di artiglieria lo stesso edificio dove loro si erano nascosti viene colpito in pieno e prende fuoco quindi immaginate nel comando nel centro di comando in comunicazione cosa ha scatenato questa con questo atto erano tutti devastati dalla cosa salvo il fatto che poi al mattino uno di questi soldati viene fuori dalle macerie poi seguito dagli altri otto tutti e nove si sono salvati con ferite leggere ok passiamo alcuni aggiornamenti dal fronte la situazione nella regione di Kursk si è intensificata e c'è stato un cambio leggero del territorio occupato conteso come vedete fra ieri e oggi non c'è diciamo è scongiurato di buono c'è da dire che è stato scongiurato il rischio che le truppe ucraine cadessero in una imboscata o chiuse in una trappola qui quello che vediamo come progresso sulla mappa è che la la zona occupata dai russi è aumentata e si è ridotta quella ucraina quindi segno che le forze ucraine si stanno ritirando uno dei video che vi mostro in descrizione vi passo in descrizione mostra proprio il tipo di azioni che gli ucraini fanno che sono per quello che si può vedere azioni più di dinamiche di guerriglia letteralmente non stanno fermi nelle posizioni cercano di muoversi e questo è abbastanza efficace in questo territorio che lo permette quindi c'è stata questa riduzione di controllo ucraino nella regione di Kursk mentre altri aggiornamenti arrivano dalla zona di Pokrovsk e Kurakove dove è aumentata l'area di controllo russo niente a parte questo ci sono un paio di notizie che riguardano dei droni questi sono droni che stanno entrando in servizio da parte ucraina che si chiamano ram2s sono mini aeroplani a fpv che hanno una telecamera frontale e servono in due per due scopi in poche parole possono fare ricognizione a medio raggio avendo una grande autonomia di molte ore e possono avere un raggio di utilizzo di 30 km quindi possono fare missioni di sorveglianza una volta che individuano i loro bersagli possono attaccarli perché sono in grado di trasportare fino a 4 kg di payload qui si parla di 3 kg di esplosivo e questo è interessante sono dei droni che possono essere lanciati con una rotaia elettrica e poi stanno in volo per molto tempo un altro drone di cui posso parlare è questo altro che è chiamato Sting che praticamente il suo ruolo è quello di intercettore è in grado di volare a 160 km e a 3 km di altitudine il che è tanto per un drone non sono giocattoli si parla in questo articolo dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per un pilotaggio autonomo il che è interessante voglio dire se il drone ha una buona telecamera l'intelligenza artificiale è in grado di riconoscere oggetti e poi sviluppare una traiettoria di intercettazione soprattutto per il fatto che per esempio i sistemi radar per quanto possono essere avanzati fanno molta fatica a rilevare oggetti non realizzati in metallo o piccoli in ogni caso cioè per dirne una i radar militari fanno fatica a vedere anche gli ultraleggeri che sono aeroplani in biposto figuriamoci un piccolo drone e dipende dalla quantità di metallo che è il materiale più riflettente da questo punto di vista dalla Francia arriva una notizia bella 300 milioni di euro devoluti per l'Ucraina per la causa ucraina che serviranno a comprare materiale materiale bellico soprattutto e la cosa bella è che questi 300 milioni di euro arrivano dalle casse russe dai soldi sequestrati dai beni sequestrati alla Russia quindi ecco sì per chiudere faccio un discorso molto generale però fondamentalmente le azioni da parte del Cremlino ormai sono evidenti che sono azioni di accaparrarsi quanto più territorio ucraino possibile non c'è mai stata nessuna minaccia ai confini russi e quindi lo schieramento delle forze nordcoreane sta dimostrando letteralmente che la situazione è sfuggita di mano e soprattutto richiede un intervento più deciso da parte della Nato soprattutto perché questo clima di incertezza e di indecisione non fa altro che rafforzare le dittature e lo stiamo vedendo anche in Cina che sta facendo dei proclami a dir poco surreali roba veramente da impero di Star Wars un altro po' la situazione verso Taiwan non è delle migliori è il presidente cinese attualmente da poche poche ore fa ha fatto delle visite all'esercito che insomma raccontano una situazione non proprio delle migliori al momento la speranza è che magari si riprenda la Manciuria piuttosto che Taiwan perché in questo momento la Russia è veramente debole e chiunque potrebbe approfittarsene ora per tornare al discorso Europa è chiaro che se la Nato l'Europa ma anche solo l'European Air Group scendesse in campo per proteggere anche soltanto i confini ucraini qui vediamo un Eurofighter con i missili Taurus solo questa macchina con i suoi missili sarebbe in grado di annichilire tutta la capacità dei bombardieri di partire da distanze corte almeno per attaccare l'Ucraina costringendoli a partire da molto più lontano il che potrebbe mettere seriamente in difficoltà molto di più di quanto è già l'aviazione russa quindi è chiaro che questo è uno scenario che non non possiamo vedere al momento però però ecco è chiaro che nel momento in cui se quando l'Ucraina entrerà nella Nato e in Europa bisogna mettere dei paletti a quello che può fare una dittatura come quella di Putin e con questo è quanto mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale è un piccolo gesto che aiuta tantissimo a crescere il mio canale fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate un abbraccio alla prossima è un abbraccio Grazie.